Eccoci ragazzi. Terza fase. Terza fase sarà un minuto di esercizio e quello dopo 30 secondi. Un minuto di esercizio, 30 secondi. Un minuto di esercizio, 30 secondi. Saranno 8 esercizi, quindi in totale 6 minuti. Da ripetere due volte. Adesso vedi più gli esercizi che sono tanti mentre credete di produrre un colpo solo. Primo esercizio. Plante, mano, spalla, costa. Per un minuto interno. Preparate, 3, 2, 1, B. Quindi sono iniziato a ballare. Una volta facciamo l'esercizio al minuto e l'esercizio successivo sarà di 30 secondi. Gli esercizio di 30 secondi sono sempre addominali. Nell'altro, quello del minuto, c'è un pochino più lì. Il minuto interno. E lavoriamo in partecipito. Comunque sarà con un prezzo di un minuto di esercizio al minuto. Siamo a 30 secondi. Forza. 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 35 secondi. 40 secondi. Siamo a 50 secondi. 10 secondi e cambiamo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutti sdraiati a terra e facciamo traverso crunch. Quindi sollevare le gambe per 30 secondi. Qui da un minuto, minuto 30. Perfetto. Perfetto. 5, 4, 3, 2, 1. Tutti in piedi. Facciamo la funge laterale con il basso. Quindi partite dal centro. Vai, gamba, gamba, giù. Torno e avrò la tavola. Perfetto. Un minuto in tira. Quindi da un minuto in trenta a due minuti in trenta. Vai. Voi controllate sempre che il vostro ginocchio non superi la punta del piede. Quindi bene dietro il sedere e non succede molto. Non mi fa male. metà squadra. Ancora 20 secondi di questo. 15, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poi, perfetto. 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 Gamba ben tese. Su per il bacino. Mano sopra il dente. Poi sono riuscite. Ginocchio verso il pubblico. Se non riuscite a fare il movimento della gamba, va benissimo. Sparca la barbola in tutto il mio immobile. Come lo hai visto? Ho fatto il fine. Ancora 20 secondi. Porta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molto, molto bene. Stante sul cappettino. Questa volta pancia in su. E facciamo il monte per il grutto. Un minuto in più. La variante di questo è fare 30 secondi con la gamba adesionata e 30 secondi con l'altra gamba adesionata. La port ordered dei controli. Siamo fati alla throw le fronti con l'altra gamba adesionata. dai in quarta dai in quarta quattro 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 dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno tortiamo il progetto laterale questa volta l'altro lato finisci sempre gambe tese sul bacino mangiunga sulla teglia e poi se riuscite movimento ginocchio per 30 secondi quattro quattro minuti 30 secondi dieci due gambe se non ce la fate rimane a disposizione stata non so come quattro tre due uno torniamo in plank basso quindi poi diamo un bacio facendo per terra e saliamo quasi tanto quindi lavoriamo con le braccia per un minuto da quattro a trenta a cinque a trenta brava come vedete l'olio mangia anche il braccio in quartezza una volta con terza una volta con sinistra oppure ne fate tre a destra metà strada metà strada se volete rendere più difficilissimo tutte e due le braccia sono temporale vai brava vento e posto bravo 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 ci sono le varianti che stanno facendo stiamo a cinquanti secondi quindi nove otto sette sei cinque quattro tre due uno ultimi trenta secondi addominale ed è il sito quattro alza verde si riparte dall'inizio il primo era plank mano spalla posta un minuto naturalmente se siete stanchi potete fare un minuto di pausa perché qualche ricomincia il secondo punto se invece volete fare una tirata solo gli spiuti tirati come perché venti venti secondi sono già andati ancora ancora siamo a trenta secondi vedete sempre nel braccio fermo quindi stringete il gluteo mancano quinnici secondi mancano mancano dieci secondi per il prodotto riposato sei cinque quattro tre due uno dai altre panci in su reversa il frisù più gambe ecco se vuole questo purtroppo anche se è facile ottimo ancora qualche secondo per il giornale dieci per il giornale otto sete sei cinque quattro tre due uno torno i piedi affondo il cuore laterale un passo un minuto bravo 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 e te la stapposino senza palo ok oh il piano pia ok dai 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 senza pala torno 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 15 secondi alla fine non è mai fatto ancora 10 secondi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 torniamo al parte laterale partiamo ancora dal lato destro 1 più in fronte alla camera se no immobile il colbacino sulle basse per 30 secondi ancora 30 secondi 10 secondi 8 7 6 5 4 3 2 1 subito ancora o 3 3 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 13 13 14 12 13 14 15 15 16 18 18 20 20 20 21 20 20 20 20 20 20 20 Stavolta al lato sinistro, 30 secondi per questo, sempre gambe stesse, spalla con la poggiata, scusate, molto meno poggiata, e vai, se riuscite il movimento della gamba, se no, lì in movimento. Vecchia, solo 30 secondi, 20 secondi, 20 secondi a passare. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torna il gamba, da basso o dall'alto, o una sola volta, o tutto il mio esercizio, Volevo la carica, un minuto. Tra, 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 tra la garza. Vedi che siamo trapporti a metà di questo, a vero? Vedi che 30 secondi siamo andati. Un minuto abbiamo finito, un minuto abbiamo finito tutto. 30 secondi questo, e gli ultimi 30 secondi si è finito. Manca, 20 secondi. Dai, dai, se si stanchi non c'è la frattativa di maniera del plank. Così non sopporti. Basso o alto, sceglietelo solo, così continua a lavorare la gomiglietta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posizione con le pediglie e facciamo il centro. Ultima patina. Bravo, bravo, ultimi vedete il secondo, bravo per ragazzi. Dai. Dai, come si muove. Una volta, destra, una volta, sinistra. Forza. Buocchiamo dentro. Dai. Forza. Mancano 13 secondi. E la tortura anche per oggi di vita. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E anche per questo venerdì che è andata. Ci vediamo la prossima settimana. Non è ancora vivo, non parla, non sta facendo gesti. E ci vediamo presto. E ci vediamo presto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie a tutti.